Il portiere sloveno entra nella top 10 della storia nerazzurra, raggiungendo Ivan Ramiro Cordoba al decimo posto, con ben 455 partite giocate con la maglia dell'Inter. Iscriviti al canale per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade in casa Inter. Nella sua brillante prestazione con la maglia del Torino, Samir Andanovic ha preso il posto di Ivan Ramiro Cordoba ed è entrato a far parte del ristretto gruppo di giocatori con più presenze con l'Inter in tutte le competizioni, raggiungendo così l'ambita top 10 della classifica di tutti i tempi degli assist. Storia dei nerazzurri. Questo traguardo storico e prestigioso testimonia l'eccezionale talento del portiere sloveno, che è anche il secondo straniero con più presenze nella storia della Serie A, davanti a Avier Zanetti. In una dichiarazione dopo aver vinto l'ultima partita di campionato, Samir Andanovic ha espresso la sua gratitudine. Sono assolutamente felice di vedere l'Inter tornare al suo posto e mi sento immensamente onorato di far parte del ristretto gruppo dei primi dieci. Un risultato del genere non arriva spesso. Il che testimonia la lunga strada che abbiamo percorso. È giocando in modo eccezionale, il nostro obiettivo era finire la stagione con preminenza e qualità, e ci siamo riusciti. Abbiamo controllato la partita dall'inizio alla fine e ne siamo usciti vittoriosi in modo meritato. Ora affronteremo la sfida più difficile per tutti i giocatori, dobbiamo fare la miglior partita della stagione e, di fatto, della nostra vita. Siamo preparati e in ottima forma e so che sarà un compito duro anche per i nostri avversari. Le parole di Samir Andanovic rivelano la sua determinazione e il suo impegno per il successo della squadra. Ed è chiaro che è consapevole di quanto sia speciale questo traguardo per lui e per la storia dell'Inter. Inoltre, anche Robin Gosens ha espresso la sua soddisfazione dopo la vittoria contro il Granada in vista della finale di Champions League. Questa vittoria ci riempie di fiducia per Istanbul. Anche se abbiamo affrontato difficoltà negli ultimi 20 minuti, sappiamo che tra una settimana sarà la stessa situazione. È semplicemente fantastico vivere un sogno come la finale che troveremo giocare. Ricordo quando, dieci anni fa, giocavo con i miei amici e guardavamo insieme partite come quella che ora avrò il privilegio di giocare. È un'emozione indescrivibile. Entreremo in campo con fiducia, mostrando il nostro qualità. Per giocare una partita come questa, devi avere un gruppo forte. Siamo molto orgogliosi di essere arrivati fin qui e sappiamo di meritare questa opportunità. Lotteremo con tutte le nostre forze per mostrare al mondo di cosa siamo capaci facendo. Ho lottato duramente per arrivare qui e avere la possibilità di vestire la maglia da titolare. E ora gioco ad un livello ancora più alto. Sono contento di poter dimostrare le mie qualità. Le parole ispiratrici di Robin Gosens riflettono la sua dedizione e lo sforzo che ha investito per raggiungere questo momento cruciale. La sua fiducia è evidente, così come il suo impegno a fare del suo meglio in campo e mostrare al mondo le eccezionali capacità della squadra. Cosa ne pensi delle parole di Andanovic e Gosens? Commenta qui sotto!